la legge stanca vent'anni dopo, non solo per ricordare. Un evento che abbiamo fortemente voluto come IWA International Web Association e la Fondazione Pensiero Solido, di cui è presieduta da Antonio Palmieri. Ringrazio già da subito tutte le realtà che ci hanno consentito di andare in diretta, di lavorare in modo corretto, soprattutto Accessibility Days che ci ha garantito un supporto con la sottotitolazione, con una regia qualificata e ringrazio già anticipatamente le interpreti LIS che ci garantiscono un servizio totalmente inclusivo anche a persone che hanno specifica disabilità per cui non possono sentire ciò che io sto dicendo in questo momento. Ringrazio anche Uninfo e la IBM per il patrocinio all'evento e mi accingo a moderare un panel molto interessante di persone che si occupano di accessibilità da anni e il panel ha un titolo particolare. L'accessibilità si può fare? La mia risposta è già da persona che si occupa del tema ad oltre vent'anni, si può fare. Vi ricorderete il film Frankenstein Junior quando è riuscito a creare la bestia, diciamo, quella che veniva considerata la bestia ma che era effettivamente un essere con capacità come tutti gli altri. E a questo punto ho ben una serie di professionisti, ve le andrò a presentare di volta in volta, uno ad uno, a mano a mano che parleranno. Partiamo con Gianluca Appinito che è uno specialista e-learning di Formex PA e che da anni e anni si occupa proprio del tema dell'accessibilità delle learning. Ciao Gianluca, benvenuto. Ciao Roberto, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Quindi rimanendo nel tema del panel, accessibilità nelle learning, si può fare? Allora, diciamo che la prima risposta che mi viene in mente è che si deve fare, nel senso sicuramente si può fare, vedremo nel corso, spero nel corso del mio intervento, in quelli successivi che ci sono, come dire, le soluzioni tecnologiche e le regole per poter realizzare dei corsi accessibili e soprattutto però ci dovrà sempre rendere conto di quanto è importante l'accessibilità dell'e-learning. Diciamo per renderlo evidente a tutti, ci ricordiamo quello che è successo nel 2020 quando a causa del lockdown si è forse improvvisata quella che è stata chiamata didattica a distanza e che alcuni hanno chiamato didattica in emergenza. Purtroppo molte istituzioni, scuole, università, ma anche enti pubblici e privati si sono trovati impreparati di fronte a quella sfida perché il tema dell'accessibilità non era stato affrontato correttamente e per tempo. Quindi quello che è successo è che purtroppo molti studenti o lavoratori con disabilità hanno avuto molte più difficoltà e hanno rischiato l'isolamento più di molti altri. dell'accessibilità non era stato... Quindi per realizzare un corso accessibile, per realizzare un e-learning accessibile, che cosa serve? Gli elementi in gioco sono diversi. Sicuramente piattaforme tecnologiche accessibili, le piattaforme sia per quanto riguarda gli LMS, cioè i sistemi per la gestione dell'apprendimento a distanza, che le piattaforme di videoconferenza, come quella che stiamo utilizzando in questo momento, è fondamentale l'accessibilità delle risorse digitali e soprattutto, e questo credo che sarà un tema che ritorrerà in molti dei nostri interventi, le competenze di chi quei corsi li progetta e li realizza. Quali soggetti? I soggetti coinvolti nella realizzazione di un corso di learning sono diversi, sono molteplici, quindi si va dagli sviluppatori appunto delle soluzioni tecnologiche, ai produttori, i fornitori di contenuti, di risorse digitali, ai docenti e non ultimi i partecipanti a un corso, a differenza di altri servizi web in un corso in e-learning soprattutto ben progettato, i partecipanti sono spesso chiamati attivamente a intervenire all'interno del corso, quindi se anche i partecipanti non hanno una sensibilità nei confronti dell'accessibilità, il rischio è quello di creare delle barriere ai colleghi e ad altri partecipanti a quel corso. A questo punto volevo raccontarvi quello che a mio avviso è un esempio virtuoso nell'ambito dell'e-learning. Quando venne emanata la legge stanca, ormai vent'anni fa, all'interno della comunità italiana di Moodle, Moodle è un learning management system open source, già all'epoca molto diffuso sia nella pubblica amministrazione che nel privato, ci si iniziò a interrogare se la piattaforma era accessibile. Visto che appunto aveva già un'ampia diffusione, il CNIPA, l'attuale AGID, si fece promotore insieme all'Università della Sapienza e altri soggetti, tra cui l'Istituto Superiore di Sanità e Formez, che oggi pomeriggio in qualche modo rappresento, di fare un lavoro direttamente con gli sviluppatori di Moodle per rendere la piattaforma accessibile. Venne fatto questo lavoro, la cosa importante da sottolineare è che con un investimento tutto sommato ridotto, il lavoro che è stato fatto ha avuto una ricaduta positiva a livello globale, perché sostanzialmente non è stata creata una versione alternativa di quel software, ma si è coinvolto in questa attività direttamente chi la sviluppava e quindi anche in altri paesi si sono avvantaggiati del lavoro dei miglioramenti che era stato fatto per adeguare la piattaforma alla legge italiana. Perché a mio avviso è un esempio virtuoso? Perché ovviamente non ci si è fermato lì. Parliamo del 2005-2006, questa versione di cui ho menzionato è stata rilasciata nel 2007, ovviamente le tecnologie si sono evolute molto e quello che è importante sottolineare è che la comunità di Moodle, a partire da quella attività che venne appunto promossa dalla comunità italiana, ha introdotto l'accessibilità come uno degli aspetti fondamentali per lo sviluppo successivo. Quindi le ultime versioni di Moodle sono conformi alle WCAG 2.1, sono state definite delle polisi per gli sviluppatori sia della core di Moodle che di eventuali plug-in, essendo un software open source è possibile estenderne le funzionalità attraverso dei plug-in, è stato previsto anche in un bug tracker la possibilità di segnalare problemi specifici per l'accessibilità. Cosa interessante, nell'ultimissima versione di Moodle è stato sostituito l'editor HTML, è stato introdotto una versione di TinyMC che supporta molto gli utilizzatori nella creazione di contenuti accessibili e è stato introdotto uno strumento, un accessibility toolkit che permette una revisione di accessibilità anche da parte di chi non ha competenze tecniche molto avanzate. Ultimissima cosa, che forse è quella più importante, è che nel corso di questi anni la comunità di Moodle italiana e internazionale si è fatta promotore del tema dell'accessibilità tra i propri utenti. Quindi attraverso la pubblicazione di articoli, corsi online dedicati proprio al tema dell'accessibilità e rivolti ai docenti, webinar, tutorial disponibili gratuitamente e liberamente online e un form di discussione dedicato proprio all'accessibilità che può essere utilizzato dagli utenti per segnalare eventuali problemi e dai docenti per chiedere supporto, come avviene in qualsiasi comunità open source, nella risoluzione di problemi tecnici. Quindi i tre elementi sono conformità del software, strumenti per produrre contenuti accessibili e formazione, sviluppo delle competenze a tutti i livelli, abbiamo detto, dagli sviluppatori fino ad arrivare agli utilizzatori finali. Mi fermo qui, ho rubato un minuto in più, però vi ringrazio e lascio la parola a Roberto. Grazie mille, perfetto, hai dato degli ottimi spunti. Hai fatto soprattutto notare il concetto che è un prodotto open, c'è una comunità che lavora per migliorare l'accessibilità. E hai fatto capire che comunque nel mondo e-learning l'accessibilità si può fare, gli strumenti esistono, poi nel secondo giro parleremo di quali sono i problemi che abbiamo nella creazione di contenuti, soprattutto contenuti accessibili relativi alle learning. Quindi grazie per questa testimonianza. Passiamo adesso a Cristian Bernareggi dell'Università di Torino, specialista del mondo delle app mobile. Cristian, benvenuto, benvenuto a questo evento. Grazie. Grazie. A te voglio porre sempre la domanda legata al si può fare. Accessibilità app mobile, si può fare un'app accessibile? Sì, la risposta è indubbiamente si può fare. Vediamo il percorso che ci porta a questa risposta affermativa. Nel 2004, quando è stata promulgata la legge 4 del 2004, non si parlava di app mobile. chiaramente non sono state contemplate da questa legge, proprio perché non c'erano ancora le app mobile così come oggi le conosciamo e come si sono poi affermate negli anni successivi. quindi i principi di accessibilità, i requisiti tecnici poi specificati dalla legge 4 del 2004 e dai vari decreti, non prendevano in considerazione appunto le app mobile. si è arrivati poi nel 2016 alla direttiva europea 2.102 che invece include le app mobile e che è stata recepita poi in Italia con la legge 106 del 2018. Questo per dire che l'accessibilità è comunque un percorso in continua evoluzione. in continua evoluzione con l'evoluzione tecnologica e le app si sono evolute particolarmente a partire dal 2008, circa 2009, 2010 e hanno visto una continua evoluzione sia rispetto alle caratteristiche di progettazione e sviluppo delle app, delle funzionalità messe a disposizione anche dai dispositivi hardware stessi, quindi dagli smartphone, dai tablet e anche rispetto alle caratteristiche di accessibilità. in due direzioni, da un lato gli sviluppatori dei sistemi operativi, pensiamo ad Android o iOS per Apple, Android per i dispositivi rilasciati da Google, mettono a disposizione numerosi strumenti d'ausilio alle persone con disabilità, in particolare c'è un lettore di schermo in entrambi i sistemi operativi, ci sono strumenti per ingrandire, per modificare la visualizzazione e queste tecnologie già presenti nei dispositivi sono tecnologie assistive che permettono di accedere a tutto quello che il sistema operativo mette a disposizione e anche alle app disponibili, diciamo attraverso il sistema operativo. Ora la domanda negli anni è stata come sviluppare in modo da poter permettere l'uso di queste tecnologie come il lettore di schermo, l'adattamento della visualizzazione o anche tecnologie per riconoscimento della voce, come sviluppare in modo che queste tecnologie si possano utilizzare anche con nuove applicazioni sviluppate appunto da chi realizza applicazioni per dispositivi mobili. E in questo negli anni c'è stata una forte evoluzione, sia Apple che Google hanno messo a disposizione sempre nuovi meccanismi per non solo appunto all'interno del sistema operativo ma anche per chi sviluppa. Quindi ad oggi è possibile sviluppare utilizzando gli strumenti, le componenti messe a disposizione da Apple, da Google in modo pienamente accessibile. Chiaramente l'accessibilità non è qualcosa che si realizza semplicemente prendendo il componente e inserendolo nell'applicazione. Bisogna farlo con la necessaria conoscenza dei principi di accessibilità e questi principi sono stati appunto poi, sono requisiti, sono principi che sono stati più e più volte affermati nel corso degli anni e quelli che valgono per il sito web in buona parte valgono anche per lo sviluppo dell'app mobile. Quindi ad oggi sicuramente utilizzando i componenti software messi a disposizione per gli sviluppatori dai player da Google, da Apple, dai grandi player che mettono a disposizione i dispositivi e utilizzando una conoscenza sufficiente dei principi di accessibilità è possibile realizzare applicazioni completamente accessibili. Nel corso degli anni, riporto un aneddoto, anche alcune difficoltà dovute ai dispositivi stessi sono state affrontate. Per esempio, il fatto che si utilizzi un dispositivo con schermo a tocco, quindi un touchscreen, di per sé può porre delle barriere, delle difficoltà all'utilizzo ad esempio da una persona che è abituata ad usare una tastiera e che quindi si ritrova a non avere tasti tangibili, tasti che si possono toccare. Negli anni molta ricerca è stata fatta in questo senso e nel 2012 Apple stessa ha implementato tastiere alternative basate su gesti, ad esempio anche basati sul Braille, che rendono a loro volta molto più accessibile anche l'interazione attraverso questi schermi a tocco. Quindi sia attraverso le tecnologie in continua evoluzione presenti in questi dispositivi, sia attraverso gli strumenti per la programmazione accessibile, ad oggi le app mobile possono essere realizzate in modo pienamente accessibile. Bene, grazie, sei stato più rapido dei dieci minuti. Ribadiamo quindi delle cose importanti che hai detto. Essenzialmente i prodotti, gli hardware utilizzati dagli utenti sono nativamente accessibili adesso, hanno le caratteristiche di accessibilità definite dai produttori che si basano chiaramente sulle regole internazionali. Tutto ciò che viene creato e sviluppato esistono messi a disposizione dai produttori dei sistemi operativi di queste apparecchiature. Ci sono delle regole di accessibilità che, come dicevi, si ispirano alle WCAG, le regole di accessibilità per il web. Quindi, tecnicamente, c'è tutto il necessario per poter produrre applicazioni accessibili. Come dicevi, poi ci possono essere criticità, ne parleremo poi con il secondo giro della domanda, perché, come avviene anche per il web, e questo ci tengo a ribadirlo, non esiste il prodotto perfetto in termini di accessibilità. Tutti i prodotti sono tecnicamente migliorabili e bisogna puntare ad un miglioramento continuo del prodotto. Quindi, ribadendo questa cosa importante, poi vedremo anche con altri interventi quanto è importante anche poi il test con gli utenti, quanto è importante poi avere dei framework, degli oggetti pronti da utilizzare in modo corretto. Anche nel mondo delle app mobile, come stiamo vedendo anche in giro con molti colleghi effettuando test, c'è un po', diciamo, di, tra virgolette, ignoranza degli sviluppatori su una corretto utilizzo degli elementi, delle soluzioni informatiche che usano quotidianamente per creare gli applicativi, che già sono in molti casi predisposte per inserire le caratteristiche di accessibilità. Quindi gli errori in questo caso non sono basati su un problema del software, ma su un problema dell'essere umano che ha una mancata, in questo caso conoscenza, della corretta implementazione di prodotti e servizi. E su questo, grazie ancora a Cristian, ci risentiremo dopo con il secondo giro, e su questo passo la palla a una delle persone più anziane in termini di accessibilità con cui ho sempre il piacere di lavorare, Fabrizio Caccavello, che è il responsabile, tra l'altro, del progetto webaccessibile.org, che è la risorsa IWA dedicata al tema dell'accessibilità. E a Fabrizio faccio una domanda che gli pongono spesso in tutti gli ambiti, ma è importante farlo in questo ambito, che c'è una risonanza molto importante, essendo vent'anni della legge stanca. Accessibilità by default, si può fare, Fabrizio? Grazie Roberto, grazie a tutti. La risposta, anche nel mio caso, come quella di Gianluca, è sicuramente sì, ma si può fare, si sta facendo, ma vorrei anche partire per sfatare un luogo comune, no? Quello che spesso si dice, che l'inaccessibilità non si è fatto nulla. In realtà non è affatto così, anzi, si è fatto moltissimo. In questi giorni ho recuperato alcuni articoli che parlavano del web primordiale, dove ci si elogiava dell'esistenza di milioni di pagine web. Oggi penso che sia un dato non più rilevabile, ma potremmo parlare di miliardi di pagine web. Quindi il web chiaramente è esploso non soltanto nella quantità di informazioni, ma anche nelle sue regole e nelle sue modalità di sviluppo. basti ricordare che noi oggi qui festeggiamo, diciamo così, un ventennale di una legge sull'accessibilità del 2004, ma alcune delle regole che oggi sono fondamentali per lo sviluppo accessibile sono degli anni 2000, 2014, 2015. Quindi dico una cosa che forse molti possono percepire, l'HTML, le ultime versioni, ma anche il concetto di guagliaria, che sarebbe una parte fondamentale per lo sviluppo accessibile, ha origine appunto intorno al 2014. Quindi è chiaro che questa evoluzione ha portato con sé e una esplosione di cose che sono state accessibili, un po' meno accessibili, e quindi per noi che facciamo questo lavoro c'è di fronte una strada molto importante. Ecco qual è la risposta alla tua domanda. Il by default cosa significa? Che non, come si dice da sempre, ossia io mi ricordo quando abbiamo iniziato a parlare di accessibilità con tanti di voi, si diceva facciamo le cose con l'accessibilità in testa, con un linguaggio forse un po' meno, diciamo così, attuale, un po' più ormai arcaico, no? È quello che oggi diciamo, in maniera un po' più, diciamo così, moderna, by default, ossia bisogna partire sempre con la cassetta degli attrezzi giusta. Che cos'è questa cassetta degli attrezzi? L'altra cosa che si dice sempre è non inventarsi mai la ruota, ossia bisogna sempre avere i mattoni giusti che ci permettono di costruire le case giuste. E i mattoni giusti sono la base, sono la base di quello che andiamo a costruire. Ma non solo solamente, molti pensano che si tratti solamente che il by default sia una roba per tecnici, non è così. Il by default è le norme, le leggi, le linee guida. E poi certo si va anche nelle cose tecniche, i framework, le librerie, le porzioni di codice, le buone rassi, tutto quello che costituisce un bagaglio che devono avere i professionisti per portare a termine la loro professione, per compiere bene la propria professione. e questa cassetta degli attrezzi è fondamentale avercela solida e avercela ben strutturata per non trovarsi nelle condizioni di dover utilizzare cose che by default, quindi che di base, sono inaccessibili. E' per questo che stiamo portando avanti il progetto di web accessibile, perché comunque all'interno di web accessibile cerchiamo di mettere un punto di riferimento di tutte queste basi strutturali. Anche perché arrivando a costruire questo discorso sul default, arriviamo anche al concetto che va a intaccare l'altro luogo comune che c'è in accessibilità purtroppo, cioè quello che l'accessibilità debba essere un controllino finale da fare quando si è già in produzione. E questo è il disastro che se voi ci pensate non esiste in nessun campo scientifico. Se una cosa devo farla sicura non ci posso pensare quando l'ho già costruita. Se devo farla efficiente non ci posso pensare quando l'ho già costruita. Così come se devo farla accessibile non ci posso pensare quando l'ho già costruita. Quindi è chiaro che il by default non va d'accordo con l'idea del controllo finale, tantomeno con l'aggiunta finale di un qualunque cosa che mi permette di rabberciare in qualche modo i problemi che ho creato prima. E quindi è chiaro che tutte queste cose ci portano a pensare che non abbiamo altra strada che percorrere quello che noi chiamiamo adesso il by default e che è quello che sempre abbiamo avuto in testa ossia pensare con l'accessibilità in testa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci devono però essere persone che fanno il by default. Quindi molti professionisti possono poggiare la propria professione nel by default già costruito ma tutti noi professionisti dobbiamo invece contribuire a creare quel by default e oggi qui siamo in molti che stiamo lavorando da anni in questa cosa perché è nostro compito che diciamo contribuire affinché quel by default funzioni e possa essere utilizzato da altri professionisti per creare cose sempre più accessibili perché quel by default significa avere oggetti o anche semplicemente regole strategie che siano state già sperimentate studiate, testate magari smontate e cancellate ora qui ci sono veramente colleghi con cui abbiamo percorso esperienze di questo tipo abbiamo avuto anche il coraggio di tornare indietro di togliere un pezzo perché ci siamo resi conto che non era un by default accettabile per ricostruire, ripensare e riandare avanti quindi adesso diciamo che chi ha l'incarico di costruire cose per il web non può non farlo accessibile perché gli strumenti ci sono il by default esiste certo ci sono sempre mille problematiche io tutti i giorni rispondo a colleghi che mi mandano cose per chiedermi se per caso possono essere accessibili by default e purtroppo sono come sai Roberto fra quelli che considerato fra quelli un po' più rigidi rigidi in queste cose quindi boccio tutto non è così è che per avere diciamo così l'importanza di essere un oggetto del cassetto degli attrezzi per tutti deve esserlo veramente se no facciamo delle basi che poi ci portano a far crollare le case che abbiamo costruito sono d'accordo perfettamente con Christian lo diceva prima per il mondo delle applicazioni un framework accessibile sì ok il framework è una base che di default è accessibile ma con un framework accessibile posso costruire un progetto digitale digitale completamente inaccessibile tutto questo deve essere racchiuso all'interno di strategie accessibili non si può pensare che la cassetta degli attrezzi sia lì e costruisca da sola un qualcosa non ho mai visto un mucchio di mattoni perfettamente standard costruirsi da soli cioè montare da soli una casa sicura d'altra parte se ne parla anche dal punto di vista della nuova frontiera che stiamo tutti quanti affrontando con varie sfaccettature della intelligenza artificiale si diceva sempre comunque è una capacità enorme di rielaborare e di mettere insieme delle cose che comunque una mente umana ha prima pensato poi sarà pure in grado e siccome generativa di aggiungere pezzi di creare delle aspettative diverse ma comunque la base strutturale delle persone esiste quindi chi vuole fare accessibile può fare accessibile e smettendo chi dice il contrario oggi abbiamo un web per carità ancora moltissimo da costruire ma soprattutto per esempio nella pubblica amministrazione e per merito di molte attività in questo in questo mondo abbiamo dei siti che sono effettivamente più accessibili di prima assolutamente d'accordo grazie grazie Fabrizio per la testimonianza ribadiamo poi il discorso che giustamente dicevi io posso avere dei mattoni belli che seguono tutte le norme unice niso che voglio ma se poi chi deve usare quei mattoni non ha le competenze non mi creerà mai una casa in questo caso accessibile e questa è una cosa molto importante questo ci lega anche al discorso già fatto prima da Gianluca fatto in precedenza ossia la tematica dell'acquisto accessibile se un'amministrazione se un'azienda acquista un prodotto deve iniziare a chiederlo se non l'ha mai fatto deve iniziare a chiederlo come accessibile servono persone competenti che conoscono l'accessibilità per creare soluzioni accessibili servono anche poi dipendenti anche dell'amministrazione dell'azienda che se vanno a caricarmi contenuti dentro i siti devono saperli fare in modo accessibile e quindi in questo caso si va a parlare di un tema che a noi di Igua è particolarmente caldo e ci interessa da anni che è il tema delle competenze professionali e qui chi meglio del buon Pasquale Popolizio che è dal 2006 mi sembra Pasquale coordina il progetto skillprofile.eu che è nato da Igua con l'idea proprio di creare un riferimento per la definizione dei profili che poi come ci racconterà magari Pasquale è via via cresciuto ed ha avuto diciamo oneri e onori a livello di normazione tecnica quindi Pasquale intanto grazie e ti lascio la parola grazie mille Roberto grazie mille alla fondazione Pensiero Solido di avermi invitato e buonasera a tutte e tutti sì hai detto bene 2006 e infatti proprio poco fa prima di collegarci sono andato a verificare quando è partita la mia prima email per invitare il primo grande player ai nostri tavoli era il novembre del 2006 noi avevamo ragionato cominciato a ragionare sul gruppo skillprofile all'interno della nostra associazione un anno prima e poi abbiamo concordato insieme quale dovevano essere le modalità e ricordo ancora che le nostre prime riunioni all'epoca non esistevano gli strumenti di come dire di comunicazione audio video come esistono adesso ecco l'ho messa l'ho portato un pochino sul lungo e ricordo che io dovetti acquistare uno strumento precipitato che secondo me per esistere meno o più per poter permettere la connessione in simultanea di circa 80 signore e signore e noi mi ricordo poi che si poteva anche videoregistrare registrare l'audio di queste riunioni e però riuscimmo nell'intento perché noi avevamo un obiettivo molto semplice prima di tutto quello associativo è quello di salvaguardare la grande professionalità di tutti i nostri soci e dei professionisti del web in Italia ma poi perché volevamo in qualche modo fare seguito ai profili di competenza di seconda generazione che già erano usciti volerà ASP e quindi volevamo in qualche modo come dire renderci partecipe e andare ancora più a fondo e dire ok però nel profilo ICT ci sono anche possiamo andare a fondo con la terza generazione e immaginiamo i profili di terza generazione per il web abbiamo fatto un lavoro incredibile tutti veramente tutti tutte e tutti nessuno escluso sì è vero l'ho coordinato io lo sto continuando a coordinare però senza l'aiuto di grandi player senza l'aiuto delle grandi università senza l'aiuto delle grandi organizzazioni senza l'aiuto di decine e decine di professioniste e di professionisti non avemmo potuto creare ben 23 profili di ruolo di competenza professionale del web tra l'altro questi profili poi sono stato oggetto come forse qualcuno di voi saprà anche delle di profili normativi infatti ai tavoli uni e un info siamo siamo stati invitati abbiamo richiesto di partecipare e dopo un bel po' di giuste e come dire interlocuzioni nel duemiladiciassette è uscita la prima norma multiparte la undici seicento ventuno ricordo ancora che eravamo contentissimi perché per la prima volta in Europa si metteva nero se bianco dal punto di vista delle norme che c'erano i professionisti del web che avevano una definizione sintetica una missione dei compiti principali delle competenze assegnate e dell'abilità conoscenza e addirittura proprio perché noi siamo stati sempre attenti agli standard avevamo anche previsto abbiamo anche previsto per aderenza agli standard le aree di applicazione delle come dire delle modalità di controllo e di verifica delle attività di ogni professionista nel caso specifico dovete sapere che esiste il profilo del il ruolo anzi adesso si dice ruolo di competenza professionale che è quello del web accessibility expert è il numero 15 tanto per intenderci e però vorrei come dire vorrei andare nel solco delle cose già dette da Roberto e da Fabrizio cioè sì è vero noi abbiamo come dire insieme a tanti altri cercato di definire questi profili e anche ai tavoli uni è uscita fuori questa bellissima norma che tutti dovrebbero poter come dire consultare e verificare c'è un fatto però che queste abilità conoscenze non sono soltanto contenute all'interno di questo profilo cioè sono perfettamente trasverdevono essere trasversali e lo sono trasversali tutte queste la stragrande maggioranza delle caratteristiche di abilità conoscenze di competenze di compiti che deve avere il web accessibility expert in un certo modo in un certo anche in una piccola parte deve essere un bagaglio che deve avere non dico tutti ma proprio tutti i professionisti che operano all'interno del web perché il buon Fabrizio prima diceva a volte a noi ci chiamano alla fine dice ok metti la pezza qua no la faccenda è proprio questa la pezza non si può mettere se dobbiamo fare l'allertino lo dobbiamo ipotizzare già dall'inizio che dobbiamo fare il vestitino dall'erchino ed evitare che ciò avvenga quindi il come dire anche se l'ampito di una organizzazione più o meno complessa non vi sono dei professionisti che hanno anche delle conoscenze delle abilità e delle competenze che riguardano il web accessibile sappiate tutti quanti voi organizzazioni grandi professionisti pubbliche amministrazione dovete in qualche modo prevedere anche la richiesta e la conoscenza di un professionista che in qualche modo abbia le caratteristiche del web accessibility expert in ogni caso o esiste il professionista del web che in qualche modo ha anche conoscenze e competenze di accessibilità del web se non c'è questa caratteristica allora bisogna come dire richiedere ad un professionista che ha quelle caratteristiche e cioè ha le conoscenze le abilità e le competenze del web accessibility expert per poter procedere alla realizzazione di siti web accessibili che ricordo ancora una volta non si tratta soltanto di realizzare i cosiddetti come dicono alcuni siti web per le persone con disabilità web accessibile significa realizzare il web pienamente nella sua come dire massima espressione perché anche chi può accedere da uno smartphone in posizione in una situazione di luce precaria o di magari che in quel momento non ha la possibilità di utilizzare entrambe le mani oppure in quel momento la rete non è molto performante quindi non si caricano le immagini sul browser dello smartphone anche in quel caso come dire entra in gioco l'accessibilità del web quindi il il profilo normato del colui il quale si occupa di accessibilità del web esiste esiste noi abbiamo pubblicato questi profili nel 2013 poi sono stati normati nel 2017 la norma adesso la 11621 multiparte nella parte 3 quella che riguarda il web è stata aggiornata nel giugno del 2021 quindi tutti possono vedere quali sono i mattoncini di conoscenza e di abilità e competenze che possono supportare e possono dare la possibilità alle organizzazioni alle pubbliche amministrazioni a tutti di poter procedere nella realizzazione di risorse web che siano accessibili grazie bene grazie Pasquale aggiungo soltanto due cose importanti Pasquale è stato precisissimo come sempre un'altra cosa molto importante è stata a livello europeo nella versione 4 dell'European Competence Framework ECF il tema dell'accessibilità è stato inserito tra le varie competenze come competenza trasversale così come la sicurezza come la privacy diventa di fatto una conoscenza che tutti devono avere quindi bisogna sì avere l'esperto di accessibilità che è in grado di risolvere aiutare a risolvere i problemi di accessibilità ma è necessario anche avere persone che hanno una minima conoscenza del tema dell'accessibilità per i temi di loro competenza se io ho un designer che deve farmi lo sviluppo di una grafica e non sa che il rapporto del contrasto del colore è normato e deve farmi una grafica idonea partirò già male in partenza perché ho un professionista che non è in questo caso qualificato per lavorare oggi nel mercato non con la pubblica amministrazione non col privato ma non è non produce qualcosa che porta beneficio a tutti quindi grazie Pasquale e sempre sul tema diciamo relativamente alla diffusione delle conoscenze delle competenze abbiamo il presidente di Accessibility Day Sauro Cesaretti , Accessibility Day è lasciamolo dire il più grande evento che abbiamo in Italia dedicato al tema dell'accessibilità benvenuto Sauro grazie anche per il supporto che ci state fornendo con l'attività dei sottotitoli della LIS e di regia del buon Chris e ti pongo già la domanda e poi ti lascio direttamente parlare diffondere la cultura dell'accessibilità come fate voi si può fare? la risposta è scontata allora buon pomeriggio intanto a tutte e tutti grazie grazie Roberto grazie alla fondazione Pensiero Solido per me è un piacere un onore essere qua oggi rispondo dicendo che si si può fare si deve fare e è l'unico modo per far sì che ci sia diciamo l'applicazione di tutto quello che è stato detto finora noi diciamo l'aspetto più importante che è emerso negli interventi dei colleghi precedenti è stato proprio quello di dare le giuste indicazioni abbiamo abbiamo una normativa con oramai ecco i suoi vent'anni abbiamo delle linee guida che sono uno strumento prezioso un tesoro che dobbiamo tenere sempre presente per far sì che l'accessibilità sia sempre più alla portata alla portata di tutti perché come dicevamo proprio nell'intervento precedente chiunque in qualche modo deve avere delle conoscenze che possano renderlo consapevole poi ovviamente è necessario è diventato diciamo estremamente necessario formare persone che siano proprio esperti di accessibilità e che possano sempre di più dare delle solide basi per sviluppi per progettazione e sviluppo accessibile noi nel nel 2017 abbiamo iniziato con mio amico Stefano e poi con tutti gli altri che hanno contribuito tra cui Fabrizio Roberto tutti i soci anche dell'associazione il direttivo abbiamo iniziato con un piccolo evento parlando di accessibilità fra di noi e confrontandoci su quelli che erano e che purtroppo ancora sono ancora oggi i problemi che si incontrano nella progettazione e nello sviluppo inizialmente abbiamo dato vita a questo piccolo evento per parlarne e direi parlarne fra di noi fra persone interessate al tema fortunatamente negli anni sempre di più abbiamo visto un'attenzione maggiore con il coinvolgimento di realtà anche interessate a sostenere l'evento e sostenere l'iniziativa per far sì che ci sia sempre di più attenzione sul tema l'evento negli ultimi anni è stato sostenuto da player molto molto importanti di portata nazionale e internazionale e questo ci rasserena perché comunque vediamo una forte attenzione sul tema noi dal nostro canto dobbiamo sempre di più portare le le basi per far sì che la normativa le linee guida possano essere rese chiare con sessioni webinar workshop che sono strumenti preziosi per far sì che tutte le persone coinvolte partendo dalle aziende in primis dalle istituzioni da professionisti da tutti coloro che sono coinvolti nella didattica un aspetto molto molto importante un settore molto importante dove sia da un punto di vista di una didattica accessibile sia da un punto di vista di formare persone che escono da percorsi di formazione già consapevoli dell'importanza dell'accessibilità già consapevoli dell'esistenza di linee guida di strumenti di tecnologie che permettono l'accesso a persone con disabilità ma per far sì che ci sia un web e delle applicazioni che mi è piaciuta molto l'espressione di Pasquale che ha detto che possano esprimere il massimo il massimo da quello che 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 erogano delle informazioni dei contenuti per far questo dobbiamo far fare in modo che il progetto e chi sviluppa e chi viene coinvolto nella produzione di contenuti sia veramente preparato e consapevole su quello che c'è c'è da fare Bene Saulo grazie grazie mille per la per la foga anche che hai messo sul tema e poi poi ci racconterai poi riamo già la prossima domanda che ti farò dopo cosa cosa ci aspetta con la prossima edizione di Assessive Day però dopo assolutamente assolutamente bene grazie grazie mille adesso passiamo a Sabato De Rosa che rappresenta in questo caso l'Invat l'Istituto Nazionale Valutazione Usili e Tecnologie ciao Sabato benvenuto buon pomeriggio a tutti la domanda anche a te che pongo è sempre del si può fare coinvolgere gli utenti con disabilità nelle verifiche di accessibilità si può fare? assolutamente non solo si può fare ma si deve fare però prima di come dire trattare ancorché brevemente diciamo la questione desidero anch'io rivolgere un ringraziamento a chi ha organizzato l'evento in primo luogo all'associazione Pensiero Solido e agli accessibility days che stanno curando appunto la regia e insomma tutti gli aspetti tecnici e tecnologici affinché questo evento possa andare a buon fine e come dicevo si può e si deve fare si deve fare perché alla fine al di là diciamo così di quello che è stato previsto dalle normative vigenti che a loro volta si ispirano alle linee guida e che sulle linee guida internazionali le WCAG sulle quali hanno lavorato fior di esperti e ci stanno lavorando fior di esperti ormai da almeno un paio di decenni e anche di più ecco il come dire il coinvolgimento degli utenti nella nella verifica di accessibilità è un elemento essenziale un elemento propedeutico affinché si possa dichiarare diciamo la conformità di una piattaforma informatica e anche perché in secondo luogo poi sono come dire gli utenti stessi che sono i fruitori cioè coloro che alla fine dovranno utilizzare questi servizi cioè perché si progettiamo le cose facciamo le cose ma alla fine se chi le utilizza diciamo chi le deve utilizzare non le può utilizzare ovviamente vorrà dire che abbiamo fatto un cattivo servizio in qualche misura abbiamo fatto un cattivo servizio e quindi abbiamo realizzato insomma un qualcosa che può essere utilizzato come dire parzialmente e agli utenti si deve rispetto anche agli utenti disabili si deve rispetto perché gli utenti disabili sono persone come tutte le altre contribuiscono viva Dio per fortuna insomma contribuiscono alla vita alla alla evoluzione insomma del tessuto sociale in ogni latitudine in ogni longitudine e quindi sono utenti che pagano le tasse sono utenti ai quali come dire viene richiesto evidentemente vengono dati diritti ma vengono richiesti anche doveri e nella come dire nell'esercizio dei diritti e dei doveri è essenziale evidentemente che gli utenti stessi possono accedere possono avere pari opportunità rispetto a tutti gli altri assieme a tutti gli altri utenti non rispetto a tutti gli altri utenti e quindi io credo che sia appunto essenziale che gli utenti vengano coinvolti nelle verifiche diciamo della conformità diciamo delle piattaforme informatiche poi è chiaro che non è semplice non è semplice eseguire le verifiche perché occorre perché spesso e volentieri quando si eseguono le verifiche soprattutto da parte degli utenti esperti come dire c'è la tendenza a dare per scontato tante cose è un po' come quando è un po' come quando si leggono così tanto per fare un esempio non so quando si leggono i manuali di istruzioni per installare un dispositivo per installare qualsiasi cosa anche il minimo dettaglio il più insignificante quello che sembra il più scontato giustamente va scritto giustamente va segnalato proprio perché proprio perché non 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 si lasci nulla di come dire nulla di non detto e quindi chiaramente fare le verifiche le devono fare utenti esperti perché devono conoscere perfettamente la padroneggiare perfettamente la tecnologia assistiva ma al tempo stesso però questi utenti che fanno le verifiche devono mettersi nei panni anche di chi non ha conoscenze diciamo così approfondite conoscenze troppo avanzate diciamo della tecnologia stessa perché chi non ha conoscenze avanzate rischia di rimanere frustrato se una piattaforma un sito un portale un'applicazione è estremamente accessibile però poi magari non la si riesce a utilizzare perché è troppo complicato il giro per ottenere il risultato desiderato e quindi naturalmente tutto questo come dire per dire che fra l'altro nel momento in cui si creano nel momento in cui le cose vengono fatte bene vengono create accessibili e quindi si si progetta come giustamente ha molto bene espresso Fabrizio nel momento in cui le cose si progettano bene dall'inizio quindi la progettazione è una progettazione come dire di tipo universale quindi si pensa e si tiene presente in design for all quelle cose che sono accessibili rendono la vita più semplice non soltanto alle persone disabili ma la rendono più semplice anche a tante altre persone che magari non hanno disabilità fisica sensoriale o cognitiva che però non hanno troppa dimestichezza magari con gli strumenti informatici è un po' il classico esempio che si fa se si fanno i marciapiedi con gli scivoli non è che ci vanno soltanto le carrozzelle dei disabili motori sugli scivoli ma evidentemente ci andrà anche la mamma o la nonna col passeggino l'ascensore quando si voglio dire quando si mettono gli ascensori negli stabili e si fanno ascensori a misura giusta affinché possono essere utilizzati da tutti non è che l'ascensore viene preso soltanto da chi come dire dal disabile e gli altri se ne vanno a piedi per le scale no l'ascensore è comodo per tutti e se l'ascensore è sufficientemente grande e capiente e spazioso evidentemente sarà una comodità di cui tutti potranno fruire quindi bisogna come dire sfatare questo in qualche modo questa limitazione per cui si pensa che fare le cose accessibili alla fine diventa una rottura di scatole e noi come Istituto Nazionale Valutazione Ausili e Tecnologie percepiamo molto purtroppo questo fastidio a volte da parte di entità ma parliamo di entità pubbliche e private sì facciamo le cose accessibili dobbiamo farlo dobbiamo farlo perché la normativa lo prevede ma insomma alla fine è una scocciatura ed è una scocciatura per cui non si vogliono fare le cose fatte bene questo è quello che riscontriamo noi e allora poi ci si rivolge a strumenti software tipo appunto gli overlays che sono gli overlays sono semplicemente dei software che si frappongono tra la piattaforma web e l'utente con disabilità che la utilizza in maniera tale che viene in qualche misura diciamo reinterpretata ricostruita una pagina per renderla poi più accessibile solo che i risultati purtroppo spesso e volentieri e lo possiamo riscontrare c'è ampia letteratura in tal senso sono assolutamente deludenti per non dire a volte addirittura forvianti gli overlays mi ricordano i primi esperimenti a suo tempo che si facevano cioè quella di creare dei server proxy attraverso i quali si filtravano le pagine web per renderle per addomesticarle un po' diciamo rispetto all'accessibilità e allora quei risultati di questi proxy furono deludenti e continua a essere deludenti diciamo questo tipo di soluzione al nostro modo di vedere per cui come dire riteniamo che si debbano fare le cose bene e si debbano fare bene come dire già in fase di progettazione e a maggior ragione poi in fase di realizzazione ecco perché quindi l'accessibilità deve essere una competenza trasversale riteniamo trasversale fra tutte le figure che compongono un team che costruisce una piattaforma informatica grazie grazie sabato della testimonianza importantissima e colgo anche l'occasione per sottolineare un'altra cosa importante legata proprio all'intervento che hai fatto così come è un esperto di accessibilità è un esperto di accessibilità e non può sostituire una persona con disabilità nelle fasi di test anche in molti casi la persona con disabilità non può sostituire l'esperto di accessibilità perché magari la sua specifica disabilità potrebbe impedirgli di fare alcune verifiche quindi serve collaborazione tra le parti Roberto tanto è vero giusto proprio 30 secondi tanto è vero ti dico questo noi come INVAT quando facciamo le verifiche di accessibilità io sono tra quelli che le fa oltre a essere dirigenti diciamo di INVAT sono tra quelli che conduce queste verifiche ma se io non ho accanto a me una persona esperta vedente non riesco a fare tutte le verifiche perché ci sono delle cose che mi sfuggono proprio perché sono inaccessibili sono inarrivabili e quindi mi sfuggono e per cui la mia verifica è una verifica molto parziale e forviante perfetto grazie mille sabato poi tornerò da te con la seconda domanda ma concludiamo il primo giro con Daniele Tabellini diciamo che forse li sono fischiate un po' le orecchie con le varie citazioni di design di oggetti di cose varie Daniele in questo caso è del Dipartimento per la trasformazione digitale è uno di quelli che ringrazio pubblicamente stanno migliorando a mio avviso l'accessibilità delle pubbliche amministrazioni anche a te lascio la palla la domanda mentre a Fabrizio ho chiesto accessibilità by default si può fare a te chiaramente chiedo accessibilità by design ossia creare un ecosistema digitale accessibile si può fare ciao Roberto grazie per l'invito innanzitutto io sono lì per come esperto di design del Dipartimento per la trasformazione digitale e in particolare per il progetto Designers Italia io inizierei intanto mettendo l'accento sulla parola fare della tua domanda il dire cioè si può fare laddove il dire si trasforma in fare intanto si può fare solo facendolo perché molte volte parliamo senza fare anche noi esperti e siccome vorrei iniziare lanciando la palla avanti più che incensarci perché vent'anni fa siamo stati tra le prime nazioni ad avere una legge e a porsi il problema l'European Accessibility Act era ancora nei sogni del legislatore europeo all'epoca vorrei lanciare la palla avanti per i prossimi anni e dire intanto una cosa mi è piaciuto molto quando Pasquale ha detto che il web accessibile è solo web oggi d'ora in poi non è che è una cosa particolare è il web il resto non lo è in realtà è un web fatto male il resto beh vorrei andare oltre vorrei superare anche il concetto di design di design for all sinceramente io insegno design ovviamente è un tema ricordante negli ultimi 15 anni universal design design for all beh quello è solo design oggi è il design fatto bene tutto il resto non lo è queste cose dobbiamo cominciare a dircele sennò rimane che quelle sono le cose in più sono quelli bravi che le fanno no se vuoi fare design fai design for all oggi non esiste il resto se lo vuoi insegnare devi insegnare design for all tolto il campo sgombrato questo campo secondo me si può fare si si può fare come sporcandosi le mani voi lo sapete bene molti di voi lo sanno sporcandosi le mani con la qualità dei progetti con il fare le cose più che altro con le persone coinvolgendo le persone che siano professionisti utenti tutti i profili che lavorano sui progetti digitali da chi scrive i requisiti a chi fa i progetti a chi fa design a chi fa sviluppo a chi edita i contenuti di un sito tutti vanno coinvolti nell'accessibilità di un ecosistema di design però poi definiamo cos'è questo ecosistema se non si capisce bene vanno coinvolti tutti gli stakeholder io rappresento un progetto che impatterà impatta su una platea di 22.000 e passa pubblica amministrazione questa è la platea quando diciamo pubblica amministrazione in Italia parliamo di 22.000 e passa enti l'ultima stima diceva con 100.000 e molto passa siti o servizi digitali quindi una platea vastissima si può fare creando e documentando mentre fai i progetti sempre i processi e i risultati e le vie intermedie in maniera open in maniera aperta che sia software che sia design al fornitore e gli enti lo chiede il CAD il codice dell'amministrazione digitale ma come progetti designers Italia e developers Italia tra il dipartimento e Agid ne facciamo endorsement da anni e aggiungo un pezzetto non solo open source non solo software pubblico è aperto che è l'unico modo davvero di fare innovazione e fare prodotti per la pubblica amministrazione ma anche open design io sono innamorato di uno slogan soldi pubblici codice design pubblico è uno slogan ma vi chiederete che c'entra con l'accessibilità c'entra c'entra tantissimo perché ora ve lo racconto il perché c'entra noi con questi processi prodotti aperti che raccontiamo e sono disponibili a tutti basta partire dal sito designers.italia.it per capire di cosa sta parlando stiamo costruendo quei mattoni di cui parlava Fabrizio Caccavello quei mattoni by default accessibili per chi li usa per chi li userà qualche amata a usarli dopo e lo stiamo costruendosi in maniera by design accessibile cioè ponendosi il problema fin dai requisiti ogni volta che coinvolgiamo un fornitore ogni volta che noi mettiamo le mani ogni volta che lo vediamo usare un fornitore e ci racconta la sua esperienza porsi il problema che deve essere sicuro accessibile privacy tutto by design e by default il progetto Italia punto Italia del design system del paese che vive sul sito designers.italia.it di cui io da qualche anno ho l'onore di essere il coordinatore delle lavorazioni tecniche niente di che è una prova che si può fare è una prova è un buon esempio in sé anche è una piccola rivoluzione una piccola grande rivoluzione silenziosa la chiamiamo tra di noi che ci stiamo lavorando perché non solo ha impatti diretti adesso già su migliaia di pubblica amministrazione ma ora ha impatti per anni non solo sui prodotti ma anche sui processi ed è una grossa responsabilità si può fare se si fa bene si fa bene noi nel nostro intento di fare questi progetti e far vedere che si può fare il stesso sito Designers Italia o gli modelli per i siti dei comuni e delle scuole che TNRR sta finanziando sono progetti che usano il design system del paese e vogliono dimostrare di essere anche buoni esempi che si può fare non è che il by design dicevo parte dei requisiti ma forse manca però apro una parentesi il design system cos'è un design system? quei mattoni che diceva Fabrizio Caccavello accessibili by default o in un altro modo una scatola di puzzle che serve a costruire l'interfaccia molti qui sapranno cos'è qualcuno che ci sta seguendo su YouTube probabilmente no però è un modo di fare scatole di pezzi già pronti premontati non si reinventa la ruota per costruire interfacce nel caso della pubblica amministrazione interfacce che ti abilitano ad accedere ai tuoi diritti o a asselerare i tuoi doveri guardate che è una responsabilità enorme fare il designer oggi fare lo sviluppatore in questo campo perché decidi continuamente chi escludere bisogna che tu ti guardi allo specchio e te lo dica tu decidi chi escludere senza non fare un prodotto accessibile nel caso della cittadinanza è incredibilmente potente questa cosa si può fare e l'abbiamo fatto coinvolgendo dicevo le persone e la realtà che lo fanno noi abbiamo coinvolto in questi due anni gli accessibility days ci hanno fatto onore di volersi coinvolgere in questo progetto e gli utenti reali con una comunità di pratica che è nata intorno al progetto proprio perché era open quindi una comunità fatta di fornitori di enti di professionisti di utenti e l'accessibilità si può fare anche in una bacina così grande se non viene approcciata solo come mera validazione seppur necessaria tecnica o burocratica seppur necessaria ma se la cominciamo ad approcciare come un mix di usabilità ed accessibilità gli ultimi due interventi da questo punto di vista sono stati molto utili tutte le persone devono poter fare la carta d'identità noi i testi di usabilità e le verifiche di accessibilità dobbiamo farle non se c'è la pagina accessibile se chiunque riesce a fare la carta d'identità per capirsi bene e a farla in maniera soddisfacente l'accessibilità e il progetto che stiamo cercando di creare l'avete detto voi più volte non è una qualità che si può ottenere una tantum è figurarsi su una scala così grande l'importante è definire processi di miglioramento continuo e di contribuzione che permettano di continuare a migliorarlo non di sono arrivato qua metto il bollino faccio la indicazione accessibilità ho finito da domani lo usa un editor lo rompe siamo a posto questo è veramente tutte le risorse dell'ecosistema del design system del paese di quei ecosistema perché è fatto da molte risorse un kit UI o un kit Italia fatto per i design bootstrap Italia e altri framework fatti per gli sviluppatori la documentazione che vive nel sito Designers Italia abilitano e abiteranno sempre di più da questo punto di vista fare accessibile dentro la pubblica amministrazione italiana per tutte le 22.000 e passa pubblica amministrazione vorrei finire solo a farvi capire l'impatto il PNRR sta dando i soldi a 8.000 scuole 8.000 comuni un po' meno ovviamente non tutti li hanno presa ma tantissimi migliaia per fare i nuovi siti e i servizi con i modelli standard che usano il design system del paese quindi è un'opportunità per tutti noi come comunità negli anni prossimi di riuscire a alzare la qualità in maniera incredibile tutti useranno pezzi del design system che continueremo a migliorare direi intanto questo si può fare facendo semplicemente perfetto grazie mille Daniele abbiamo circa 20 minuti poco più quindi dobbiamo stringere un po' il secondo giro di domande quindi vi farò una domanda secca che vale per tutti tranne per Sauro che poi ci parlerà invece di Accessibility Day ci farà una piccola preview e quindi la domanda secca per tutti chiaramente vi chiamerò una alla volta in modo da non creare traffico sul d'accordo come si dice qui a Roma la domanda secca è qual è la maggiore criticità che avete riscontrato nel vostro settore di accessibilità quindi qual è la sfida che vogliamo porre per il futuro del settore di cui vi occupate parliamo quindi di learning partiamo da Gianluca affinito allora nel mio intervento d'avvertura parlavo di tre elementi in gioco quando si parla di accessibilità di learning parliamo di piattaforme risorse digitali e competenze le piattaforme stanno migliorando anche quella che stiamo utilizzando oggi migliora nel tempo sempre di più saranno accessibili e supporteranno anche i formatori negli learning le risorse digitali che sono un aspetto molto critico all'interno in un corso in learning perché solitamente prevedono elementi di multimedialità interattività quindi potrebbero creare delle difficoltà a mio avviso anche in quel settore i software stanno migliorando molto gli autori in tool quelli che servono per realizzare contenuti per il learning prevedono tutti quelli principali senza doverli necessariamente menzionare dei supporti per chi sviluppa contenuti per il learning a mio avviso forse la criticità maggiore riguarda proprio l'ultimo degli elementi cioè quello delle competenze l'abbiamo ripetuto più volte in questi diversi interventi le competenze chi ne parlava nell'ambito di chi sviluppa il software di chi sviluppa i siti nel caso dell'e-learning invece è una competenza a mio avviso che deve essere diffusa tra tutti i docenti i formatori vi ricordo che DIGCOMP EDU cioè la versione del framework europeo specificamente pensato per le competenze digitali dei docenti e dei formatori prevede proprio una competenza che riguarda specificamente l'accessibilità DIGCOMP EDU prevede 22 competenze una di queste richiede che i docenti e i formatori assicurino che le risorse e le attività di apprendimento proposte siano accessibili a tutti gli studenti inclusi quelli con bisogni speciali quindi questa competenza non deve essere aggiunta non deve essere un supporto esterno deve essere qualcosa che riguarda la professionalità di chi si occupa di chi fa il docente o il formatore a qualsiasi livello il quadro il framework europeo si rivolge ai docenti di qualsiasi ordine di scuola quindi comprese l'università e anche per la formazione per gli adulti quindi parlare di formazione per la pubblica amministratura azione formazione nel settore privato quindi queste competenze diffuse e come dicevo nel primo intervento queste competenze in questo caso parliamo di DICOMP devono riguardare anche gli utenti partecipanti cioè se io partecipo a un corso di learning e ci sono dei miei colleghi che hanno qualche forma di disabilità devo essere sensibilizzato devo essere avere quegli strumenti quelle conoscenze quelle competenze che mi permettano di non creare io delle barriere a un collega che sta seguendo insieme quindi competenza mi avviso competenze diffuse per qualsiasi settore quindi arricchire di competenze chi deve poi divulgare conoscenza e informazione quindi formare informatori in questo caso i divulgatori grazie mille Gianluca grazie a te per quanto ci hai fornito passiamo a Cristian Bernareggi quindi mondo app mobile anche in questo caso qual è la criticità più grande Cristian che troviamo nel mondo delle app mobile dunque abbiamo detto che oggi è possibile sviluppare accessibile per dispositivi mobili e in particolare sviluppare applicazioni native accessibili una grande criticità ce l'abbiamo quando si utilizzano linguaggi che permettono di creare attraverso un unico linguaggio applicazioni adeguate per piattaforme diverse per sistemi operativi diversi quindi con un unico linguaggio genero un'applicazione che va bene per Android per iOS o altro questo è chiaramente questo è chiaramente un grosso vantaggio per chi progetta e sviluppa tuttavia dobbiamo assicurarci che nella scelta del linguaggio nell'utilizzo del linguaggio stesso siano presenti tutte le caratteristiche di accessibilità che vogliamo introdurre nell'applicazione o che abbiamo bisogno di introdurre nell'applicazione e ad oggi non tutti i linguaggi permettono di introdurre tutte le caratteristiche di accessibilità che portano ad applicazioni completamente accessibili e conformi ai requisiti tecnici sull'accessibilità inoltre l'evoluzione dell'intelligenza artificiale sta dando una mano anche nel guidare lo sviluppo accessibile ma potrebbe e già lo fa in alcuni casi creare dei problemi delle criticità ulteriori per esempio un esempio molto breve per dare un'idea del problema ad oggi nei sistemi mobile è disponibile la generazione automatica di un testo alternativo che descrive le immagini attraverso sistemi di riconoscimento delle immagini basate su intelligenza artificiale non sempre questo testo alternativo è adeguato e c'è il rischio che gli sviluppatori ritengano che non sia più necessario aggiungere un testo alternativo perché lo fa l'intelligenza artificiale quindi l'intelligenza artificiale può sicuramente guidare fornire delle utili indicazioni per l'accessibilità anche per chi sviluppa ma non può sostituire almeno in questo momento lo sviluppatore stesso nel creare applicazioni accessibili perfetto quindi in sintesi serve che lo sviluppatore abbia conoscenze e competenze per produrre soluzioni adeguate non deve appoggiarsi solamente a soluzioni automatizzate grazie mille Cristian passiamo a Fabrizio nel campo invece della divulgazione come web accessibile quindi le competenze dei professionisti a me verrebbe il termine formazione ma lascio a te Fabrizio qual è la più grande criticità? sì ma diciamo sicuramente quello della qualità dell'informazione ossia web accessibile è stato è ancora abbiamo l'intenzione di portarlo avanti per farlo restare un punto di riferimento di qualità per l'informazione scientifica sull'accessibilità è chiaro questo è un lavoro importante perché essere un punto di riferimento vuol dire fare molta attenzione a ciò che si pubblica chiaramente le risorse per l'accessibilità sono disponibili a livello internazionale soprattutto chiaramente non solamente guardando a cose italiane ovviamente quindi il lato nostro il nostro obiettivo è quello di fare sempre però un'informazione che abbia un'attenzione anche per i temi dell'accessibilità locale e poi l'altra cosa molto importante è quello di fare un'informazione anche per i colleghi che magari abbiamo anzi ne approfitto per ricordarlo abbiamo un estremo bisogno di professionisti dell'accessibilità per dare a loro una base strutturale seria e importante l'accessibilità e anche per difenderli da quelli che io chiamo i chiromanti dell'accessibilità ossia tutte quelle attività che sono a volte divulgazione a volte anche applicativi che si si pongono come un qualcosa di semplice di immediato tipo lo diceva prima sabato e rosa tipo gli overlay oppure l'informazione banale sui framework che sono accessibili di base insomma e quindi tutto questo deve essere abbiamo l'obiettivo di portarlo avanti all'interno di web accessibile certo mi rendo conto che scrivere di accessibilità è una cosa un po' complessa ma è importante che tutti noi che possiamo farlo dedichiamo del nostro tempo per arricchire questa questo repository di informazioni sempre più importanti bene grazie Fabrizio Fabrizio chiaramente ha chiamato anche tutti i professionisti presenti in questa call ma anche che ci seguono su youtube se avete competenze in accessibilità web accessibile punto org va spetta per divulgare la conoscenza sempre nell'ottica open che diceva prima Tabellini salto a questo passo a Pasquale Popolizio quindi il tema dei profili professionali qual è la criticità più grande che si trova in questo momento anche te sintesi Pasquale mi raccomando grazie Roberto io forse perdonatevi vorrei andare controcorrente non parlerei tanto di crisi perché mi sa parlerei di opportunità di momento di come dire di svolta di la possibilità che abbiamo tutti noi di prendere contezza veramente che adesso cioè non dico la necessità si fa così come ha detto pure Daniele prima cioè si deve fare così ma è inutile stare qui a ci schiare ora la verità è che abbiamo contezza abbiamo la possibilità di avere questi mattoncini che Daniele insieme al team del dipartimento ha creato abbiamo le norme tecniche uni abbiamo i profili di skill profiles e allora dobbiamo mettere in sinergia tutte queste cose i professionisti devono sapere che devono essere devono avere anche delle conoscenze e delle competenze accessibili quindi hanno l'opportunità possono utilizzare questi strumenti possono formarsi adeguatamente e possono utilizzare anche i profili skill profiles e uni che possono la stessa cosa per trasformarsi ancora di più quindi secondo me perdonatemi se non parlo di crisi ma io mi piacerebbe tanto parlare di opportunità grazie sono d'accordo ottimo quindi significa comunque che il settore delle professioni è comunque un settore che in questo momento non ha bisogno non ha criticità particolari ma bisogna lavorare per qualificare al massimo i professionisti grazie mille passo a sabato de rosa in vat quali sono le criticità a questo punto la criticità più grande che trovate quando vi approcciate con le realtà con cui fate test l'avevi già accennato prima qualcosa ma se vuoi concludere in velocità con una sintesi sabato sarebbe ottimale ma guarda faccio molto molto rapidamente Roberto mi allontano un po' da quello che dicevo prima perché vorrei segnalare una criticità enorme alla quale tu hai già accennato ed è quella della documentazione quindi la cosa incredibile la cosa incredibile è che noi per esempio troviamo tanti documenti inaccessibili e tanti servizi ci richiedono la compilazione ad esempio di documentazione ma come si fa a compilare della documentazione quando i documenti pdf che vengono veicolati sui siti sono dei documenti immagine oppure sono dei documenti dove a malapena magari si legge il testo ma non si riesce non si riescono ad intercettare i moduli i campi e tutte le caselle le cose da compilare ecco questa è una criticità veramente che mette come dire in qualche modo è frustrante molto frustrante basta termino qui grazie mille io qui prima di passare a Daniele io dico la mia teoria che porto avanti da sempre io vorrei che i moduli sparissero dai siti delle pubbliche amministrazioni come oggetti scaricabili e vorrei caricare le mie informazioni il meno possibile perché abbiamo speed abbiamo l'autenticazione la PA possiede i miei dati quindi può acquisirli utilizzarli e voglio interagire in modo semplice voglio un ripensamento completo dei processi non voglio dover compilare cinque volte scondi una porta aperta ok perfetto e quindi passo e concludo con Daniele che quindi qual è la difficoltà più grande in questo caso nella parte vostra legata al by design allora mi sono messo uno sfondo che recita sullo sfondo del sito Designers Italia fondamentalmente che recita designs.italia.it partecipa alla trasformazione digitale Designers Italia mette a disposizione di conoscenza e strumenti per creare servizi digitale pubblica amministrazione la sfida più grande è la conoscenza secondo me sono con Pasquale quando dice che più che parole di criticità parliamo di opportunità io sono un designer a me l'ho insegnato io insegno che si fa design individuando le criticità e trasformandole in opportunità l'opportunità più grande la sfida più grande è la conoscenza ed è il futuro io vorrei chiudere il mio intervento su questo queste risorse oggi le abbiamo dargli futuro farle vivere nel tempo quindi far conoscere che esistono delle linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali da due anni che impongono a fornitori e enti di progettare bene con qualità di fare test di usabilità di fare ricerca utente di usare laddove è possibile se non si riesce a fare meglio questi mattoncini non altri non reinventare la ruota ogni volta far capire il valore culturale di tutto questo approccio open che sta dietro e far progettare in open anche altri servizi una sfida legata alla formazione il futuro ragazzi è il futuro secondo me dare vita a tutto quello che oggi c'è in realtà oggi si possono fare prodotti belli accessibili e oggi l'APA sta facendo molto meglio di prima e farà sempre di più con tutti questi progetti che è in campo meglio di prima la sfida grossa è documentare fare formazione fare ricerca con direttamente fornitori identi su come aiutarci tutti a far sì che queste risorse che sono bene pubblico dobbiamo cominciare a chiamarle bene pubblico abbiano vita lunga fondamentalmente il design system i modelli comuni scuole musei asle che stanno arrivando sono un bene pubblico di cui abbiamo bisogno che tutti si facciano carico non è solo il nostro team e il dipartimento tutta la comunità di pratica di fornitori identi dell'APA italiana io direi questo la sfida è il futuro Daniel assolutamente grazie mille il lavoro come ho già detto all'inizio è fatto molto bene prova ne è il pane successivo è politico questo progetto se non sbaglio è in vita da tre governi quindi non è stato chiuso quindi significa che è un prodotto di qualità bipartisan che è un prodotto fatto bene non ha colore ma se porta qualità in questo caso porta fruibilità da parte del cittadino maggiore accessibilità è un beneficio per tutti e quindi è bene continuare su questa linea e su questa linea chiudo con Sauro Cesaretti di Accessibility Day a cui chiedo comunque di rimanere in pochi minuti visto abbiamo ancora qualche minuto poi diamo un po' di spazio ad Antonio Palmieri per un prequiel a questo punto della sessione con i ministri Sauro cosa ci aspetta a questo punto di Accessibility Day? intanto innanzitutto immagino che tutti i presenti siano invitati a partecipare alla prossima edizione quindi se ci dà informazioni sulle date sul luogo e su quello che puoi anticipare è un evento che diciamo partendo da questo dall'evento di oggi ci aspetta un anno importante che ci porta fino al 2025 è sicuramente una tappa estremamente importante e quindi il 16 e il 17 maggio a Roma presso l'Università La Sapienza ripetiamo diciamo l'evento presso La Sapienza una realtà che per noi è veramente importante l'ho detto prima l'importanza della didattica della formazione quindi è sicuramente ecco un aspetto importante l'evento diciamo sarà focalizzato con interventi che vogliono essere sia di carattere introduttivo ma anche contenuti avanzati per approfondire il tema la maggior parte vorremmo fossero focalizzati anche con lo sguardo ecco al 2025 con gli aggiornamenti e gli steps che ci che ci portano verso questa importante tappa dal punto di vista soprattutto normativo e sarà sia in presenza che online anche se ecco noi puntiamo sempre ad una partecipazione in presenza perché è un'opportunità assolutamente preziosa per confrontarsi per fare per fare rete per fare network per fare esperienza anche sul campo anche perché ci saranno sicuramente workshop i quali saranno fruibili solo esclusivamente in presenza e colgo l'occasione anche per dire che ci sono gli ultimi dieci giorni proprio a partire da oggi per presentare proposte la call for session aperta trovate tutte le informazioni sul sito accessibilitydays.it seguiteci sui nostri canali social in particolare ricordo sempre la la quantità di informazioni di video di materiale da fruire sul canale youtube strumento importante per per formarsi l'abbiamo detto più volte oggi e ricordo anche la possibilità per le aziende tutte quelle realtà che vogliono sostenere l'evento ricordo la possibilità di poter partecipare anche per sostenere accessibility days grazie grazie di nuovo a tutti e tutti grazie a pensiero solido per averci coinvolto averci invitato grazie sauro grazie a tutti ringrazio veramente tutti le persone che hanno parlato al panel perché hanno portato avanti la teoria che abbiamo messo sul titolo quando abbiamo creato il programma con Antonio Palmieri l'accessibilità si può fare si voi siete l'esempio di del fatto che l'accessibilità si può creare si può fare gli strumenti esistono le competenze esistono il materiale divulgativo informativo esiste quindi è necessario far passare il concetto che l'accessibilità l'abbiamo già detto più volte è un principio di qualità nella produzione di qualsiasi cosa deve essere fatta by default deve essere di base in qualsiasi ambito non deve essere relegata al tecnico al professionista perché se chi ha il potere decisionale dentro le aziende o l'amministrazione non percepisce la necessità dell'accessibilità avremo sempre una fanalino qualcuno interno all'azienda che si prodigerà per portare avanti l'accessibilità ma non ci sarà mai un pensiero accessibile largamente diffuso alla prossima Grazie a tutti.